Vi prego di non dimenticare questa grande... La direzione dice Alessandro, andiamo avanti, no? Io lo dico nel vostro interesse, perché voi li perdete questi quadri, li perdete di sicuro. E allora diceva, vabbè, ne presenterete un altro tra un mese. No! Sicuramente, probabilmente ne presenteremo altri due tra un mese. Ma così bello? A 10.000 euro? Queste sono le occasioni, no? Cioè, quanto tempo è che non vedevate presentare Antonio Nunziante a Telemarket? Quanto? Siate sinceri, se conoscete Telemarket, se ci guardate da tempo. Mai! Non lo presentiamo mai, Nunziante. Ci è capitato questa occasione. Due dipinte ad olio, uno più bello dell'altro, offerte a un prezzo molto più basso rispetto ad altri. E lo sappiamo. Questo quadro, 50x70, olio su tela, archiviato, periodo metafisico, natura silente sul mar, a 10.000 euro. Come fa a costare 10.000 euro un Gonzaga d'olio? Olio su tela. Giovanni Francesco Gonzaga. Tu puoi chiamare e dire, non so se compro, Alessandro. Ho bisogno di più tempo per decidere se comprare o non comprare. Perfetto. Io ti do tutto il tempo che vuoi. Ma voi siete tanti e in tanti interessati agli stessi quadri. E questo è molto pericoloso. Allora, cosa molto semplice, uno di voi mi chiama e dice, Alessandro, mettimi da parte questo, mettimi da parte quello, quello, quell'altro. Io te lo metterò a parte. È da parte per te. Il mondo, che faccio?